E benvenuto e bentornato a un nuovo video, io sono CinaBiondo e oggi vi parlo della mia top 10 personale di Lost Cavern of Xan, delle carte da recuperare, per varie ragioni diciamo. Con questo video vi metto anche la tabellina dove trovare cosa, perché è molto importante, visto che è l'ultimo set, dovrebbe essere l'ultima volta che vediamo set Draft Booster Collector Booster, adesso sarà tutto più semplice dall'anno prossimo. E niente, e via, adesso andiamo a parlare un po' delle carte. Allora, prima di iniziare la top 10, dobbiamo parlare sicuramente delle carte extra che ci sono a sto giro. E sto giro sono le carte Jurassic World, che vi ricordo che non sono legali in Standard Pioneer Modern, ma sono semplicemente delle carte extra, legali in Commander, tendenzialmente Legacy. Queste sono molto belle, soprattutto quelle con la foilatura particolare, come vedete al centro, con il simbolino serigrafato di Jurassic World. E secondo me, in futuro, una collezione completa di queste manterrà sempre un po' di, diciamo, valore collezionistico, in quanto, lo sapete anche voi, Jurassic World, Jurassic Park, è un brand iconico della cinematografia. E poi quest'anno è anche al trentennale, quindi io vi aggiungo questo, secondo me non è per nulla scontato. Poi andiamo sui tesori, che sono altre carte extra che saranno dentro le buste. Queste mi piacciono, perché è una ristampa importante di due artefattoni, cioè Carice del Nulla e Amulet of Vigor. Entrambe super staple in formati come il Modern, che vi ricordo che è il formato comunque competitivo più giocato al mondo. E che comunque sono particolari, hanno quest'arte particolare, quindi anche secondo me queste qui è un buon momento per recuperarli in generale, soprattutto se le dovete giocare. È un buon spot, è un buon, diciamo, una buona finestra per comprarle, perché poi ritornano su. Come si è già visto in passato per Time Spiral, che era uscito dal Culture of the Void, Old Layout, per quei mesi là era basso, e poi adesso è tornato su. Perché sono carte troppo troppo giocate. Poi, l'extra, le Neon Foil, le Foil Neon, questa è una cosa che, come ho detto nel video della Guida Pre-Release, che vi linko qui sotto, c'era già Kamigawa, non è una novità, però la ripropongono su carte belle. Perché l'altro giro era su una carta che non era giocata, quindi non ha avuto il suo valore collezionistico, ma era proprio molto, molto, molto di nicchia. Così facendo, su un Mana Crypt, su una Cavern of Souls, che sono super staple anche in Commander, secondo me adesso gli creano molto, molto più attrazione, no? Secondo me è anche valore collezionistico in generale, anche perché ci sono vari colori, sei colorazioni diverse. E anche lì, collezionare tutte e sei non è una cosa brutta, secondo me attira un po' di gente. Quindi anche questo, secondo me, ha un grande valore collezionistico. E prima di iniziare la Top 10, vi dico che, come al solito, il video è sponsorizzato da Malatrust.com, che col codice sconto CINABYONDOMALATRUST avete il 5% di sconto e l'espedizione omaggio sui ordini superiore ai 49,90. Le buste sono belle e soprattutto sto XLAN, prendere un collettorino di questo XLAN, secondo me ne vale la pena. Anche perché questo XLAN oggettivamente sarà molto rilevante su vari formati, ma ne parleremo piano piano durante la nostra Top 10. Bene, iniziamo la nostra Top 10, al decimo posto metto Tishana's Tidepinder, questo Merfolk, che è anche un mago, e attenzione, sono due tribali molto importanti, mago e tritoni, tra due costo tre, con flash, che, secondo me, sarà una bella stepolina in vari formati. Primo, perché ti counter un'abilità triggerata, o attivata o innescata. Vi faccio un esempio di abilità attivata, può essere, ad esempio, una carta che dice paga due vite, sacrifica un pezzo, fai qualcosa, è un'abilità triggerata, che è un'abilità innescata, è tipo gli effetti enter to the battlefield, quindi quando una carta entra sul campo di battaglia, fa qualcosa, e gliela countera, di base. Seconda cosa, finché questa rimane sul campo di battaglia, e gliela ha counterata, quella creatura, artefatto, planeswalker che sia, quindi lo fa anche su planeswalker, ragazzi, eh, perde tutte le abilità, finché Tishana rimane in campo. Questo è un bel chiodo, sicuramente in commander entra, per i mazzi quelli fastidiosi, e anche in costruito, è interessante, è un bel, diciamo, è una bella roba da tuttora, da avere, come nel grilletto, no? Come pallotto nella nostra pistola. Quindi questo, carino, molto molto figo. Non lo metto in alto, perché sicuramente non è, non avrà quei valori incredibili, però, secondo me, è bella lì. Get Lost, numero 9. Questa rimozione, soprattutto in Standard Pioneer, cambierà un sacco di cose. Perché dà finalmente una rimozione veramente forte al bianco, ai controllo. E, oltre a questo, il suo malus è il fatto di dare due map token, che fanno esplorare, che in realtà non è detto che sarà un vantaggio carte, come era per altre carte, no? Che dava un clue, un token indizio. Questo invece dà un token meno forte. Quindi, secondo me, è questa carina. Un'ottima rimozione, che potrebbe anche arrivare in formato un po' più lunghi, eh? Sicuramente in Lea, sì no, in Modern, no. Però, questo ha valore come competitivo, eccetera. Anche a livello Commander, è molto interessante. All'ottavo posto vi metto Galta, Stampede Tyrant. Questo 12-12 travolgere a costo 8. Che in realtà non è costo neanche così tanto, eh. Che quando entra sul campo di battaglia, possiamo mettere un numero, qualsiasi creature, dalla nostra mano, sul campo di battaglia. Questo può essere una carta molto carina, anche per far scendere Atrax. È una carta molto, molto carina per barare. Secondo me, soprattutto in un mazzo di... Perché poi i dinosauri sono così popolari in Commander. Quindi, questa arriva, eh. Comunque, mazziramp, eccetera. Comunque, ma 8 mana non è così infattibile. L'avevamo visto per City Leverscraper. E potrebbe anche essere una roba buona da avere in Monogreen. Non si sa. Comunque, questa sicuramente avrà... Manterrà la sua... Il suo valore. E questa è molto bella come carta. Comunque, anche cose in generale. Al numero 7 vi metto Blood Letter of Alclatsots. Un 2-4 volante a costo 4. Forse l'ho messo un po' in alto. Forse l'ho messo troppo in basso. Volare. Ma la verità forte è il fatto che ha questa abilità passiva. Cioè, funziona sempre. Che quando un avversario perde vita durante il nostro turno, ne perde il doppio. Quindi, specificando che fare danno fa perdere vite. Quindi... Questa è una carta che fa fare tante porcherie a cose. Già che è giù... Quando è giù, ogni volta che gli facciamo danno, gli facciamo il doppio dei danni. E poi, su tanti, eh. Questo... Secondo me, in formati piccoli, forse ancora non è il suo momento. Ma quello... Adesso che è lo standard su tre anni, non si sa mai. Ma... Su Commander. Che vi ricordo che le mitiche in Commander. Soprattutto quelle uniche di alcune edizioni. Finché non le ristampano. A volte, molto spesso, vanno altissime. Questa molto, molto, molto carina, eh. Molto, molto carina da tenere sott'occhio. Altra carta da tenere sott'occhio è il numero 6. Vi metto Echoing Dips. Questa terra e le terre che fanno cose particolari. Per quanto adesso, ad oggi, possono non fare niente. In futuro non si sa mai. Perché questa dice che quando entra su Campo di Battaglia, entra come copia di una carta terra al cimitero. Tranne il fatto che... È una caverna, in addizione. Oltre a questo, da un mana. In colore. E anche questa è una cosa molto rilevante. A me viene da dire Dark Deaths. In formati Eternal. Quindi Legacy. Ma... Fa cose strane. E le terre che fanno cose strane sono sempre pericolose, ragazzi. Sempre, sempre, sempre. Tenetela ad occhio. Tenetela lì. Non si sa mai. C'è anche un'altra terra che dà due mana, ma lo dà solo per abilità attivata di terre. La paragonano a Anchen Tomb. Ma quella non è neanche lontanamente Anchen Tomb. Questa, invece, è molto interessante. Anche perché poi col cimitero ci si può far sbizzarrire, fare cose. Io questa la lascio qua. Secondo me è potenziale. Forse non adesso, ma potenzialmente è una carta molto, molto importante. Al quinto posto vi metto il primo dio, il culo verde, Oyer Kaslem. 6-5 costo 5. Abbiamo capito, in realtà, da War of the Sparks, che i dèi, quelli che non muoiono mai, tancano valore. Tancano valore per tanto tempo. Ma poi questa, oltre ad avere un effetto molto forte di base, che è il fatto che ogni volta che fa danno al combattimento a un giocatore, e ci ha a travolgere, riveliamo le prime tante carte quanto abbiamo fatto danno dal suo grimorio e possiamo mettere una sua creatura o la terra tra di essere sul campo di battaglia. Di base è forte, ragazzi. Di base di effetto è forte. Ma il fatto che quando queste creature qua muoiono, si girano, diventano una terra che da mana e che a costo 3 in sorcery, in stregoneria, in velocità di stregoneria, si rigirano. Queste sono fortissime, ragazzi. Queste sono fortissime. Queste, tutti i dei, di tutti i colori di questi qua, sono fortissime. Perché non si rimischiano nel mazzo, non li metti come seconda carta, terza carta. Questa si gira, diventa una terra che è ancora più difficile da bersagliare e poi si rigirano e non ritorno a queste. Tutte forti, sono. Queste sono proprio forti. E secondo me queste, oltre al fatto che in Commander sono tutte fortissime, sono tutte mitiche, quindi strizzate l'occhio il fatto che sono mitiche e in Commander sono giocate. Anche in formati corti, in Pioneer, in Standard, queste sono forti, eh. Queste sono delle belle chiusure. Oh, io a ridosso del podio, questo ve lo metto. Kimil The Inner Sun, questa artefatto in colore, cosa molto, molto rilevante al fatto che è in colore, quindi può essere giocato da qualsiasi mazzo e il fatto che è un artefatto può essere tutorato da carnino. E a corso 6, non può essere counterato, quindi non può essere neutralizzato, ma soprattutto all'inizio della nostra fase finale facciamo Discover 5, che vi ricordo che è un'abilità rotta, è un'abilità uguale a cascata, simile a cascata, quindi rottissima. Esigniamo le prime carte del nostro grimorio finché non riveliamo una carta con costo di non terra, con costo di mana, 5-. meno. La possiamo lanciare senza pagare nel suo costo di mana o prenderla in mano. Fortissima, ragazzi, veramente fortissima. Questa addirittura, quando riveliamo le rimozioni, ce la teniamo in mano, non facciamo come cascata che la dobbiamo lanciare per forza per metterla sotto il mazzo. Fortissima. Questa è veramente forte, forse è veramente la mitica del set. La mitica del set è poi una mitica, in colore, artefatto, in comandare sarà sicuramente una carta rottissimissima. Infatti c'è anche il comandante Eldrazi. Oh, questa mi sembra fortissima, ragazzi. A me piace un sacco e ve la consiglio a tutti di tenervela in saccoccia. È questo a ridosso del podio, ma secondo me è anche da podio questa. E parliamo di podio. Questa è la carta più forse chiacchierata del set ed è, tra l'altro, fa ridere perché è una risposta, non è una minaccia. Però a costo 2, a velocità di stregoneria, quindi meno male, possiamo scegliere uno. O distruggiamo una creatura, un Prince Walker, bersaglio, molto importante per avere il nero e il rosso, o distruggiamo una non creatura, non terra, permanente, con costo di mana uno o meno. Mi viene in mente Arden Scales, Calice. Quindi forno e poi il fatto di studio. Ma se abbiamo disceso questo turno, li possiamo scegliere tutti e due. Discendere vuol dire che se è un permanente, è stato messo da qualsiasi parte del mondo al cimitero, anche dalla mano. Quindi magari ci siamo scartati una carta dalla mano, magari abbiamo fatto il gioco cartoforno. Secondo me, questa è una rimozione incredibile. È un level up a dread board devastante, perché di base fa quello. In più ha un effetto in più che può fare un 2x1. Devastante. Bellissimo. Questa carta è fortissima. È un level up incredibile. Questa, tra l'altro, anche in Modern, mi viene in mente, anche in Rectos Cam, mi dà un'altra pallottola già forte. Già forte e molto popolare. Quindi, boh, questa spaventosa. Questa carta qua è forse una delle più spaventose, perché dà risposte a mazzi già forti. E poi mi viene anche in mente il mio Rack Dossino in Pioneer, che a tutti voi piace. Ma soprattutto a me. E al secondo posto, quindi proprio a ridosso del vincitore, vi metto l'altro dio, quello bianco. Questa fa un 6-6 costo 6, con cautela, e ogni volta che una creatura token viene creato, ne creiamo tre volte tante. Bellissimo. Perché io vi ricordo che Mondrak, che c'era in New Pirexia, in All Will Be One, è stata una carta che è sempre stata alta di valore. Costa 1 in meno, le raddoppia, e ha più sfighe, perché questa non muore. Questa, come l'altro dio, quando muore si gira e diventa una terra, che poi si può rigirare della sua volta. Questa è la carta forte, ragazzi. Questa è proprio forte, fa tanti token pericolosa. Forse non in formati costruiti, forse, ma in formati tipo Commander. È sicuramente una mitica, ricordo sempre il discorso mitico Commander, da recuperare, ragazzi. Questa è da recuperare. Prima di parlare del primo posto, io vi parlo, secondo me, delle top non rare, come al solito è importante parlarne. Sicuramente queste caverne. Tutte queste caverne qua colorate sono fortissime, perché a una certa vi fanno fare Discover 4. A caso, a caso, poi sono comuni, quindi entrano in pauper, anzi, questa entra in pauper, è devastante, sono di tutti i colori, fanno questa abilità qua, tutto uguale, di entrare in campo tappato, dare un mano di quel colore lì, e poi tappando 5, sacrificandola, quindi late game, fate Discover 4. Questa mi sembra fortissima. E l'altra carta nera, è una rimozione, possiamo usare come costo addizionale, deve essere o paghiamo altre vite, o scartiamo una carta, a volte scartare una carta, per alcune mazze, è una cosa positiva. Mi viene in mente che in pauper, cioè, puoi giocare di robe con Madness, ma anche in altri formati, puoi giocare di robe con Madness, e di sorgere una cartura, o Prince Walker bersaglio. Boh, come anche questa, mi sembra fortissima. Poi, l'altra carta più chiacchierata del formato, di questo set, scusate di questa espansione, è il Goblin Tomb Raider. Goblin Tomb Raider, questo 1-2, questo 1, rosso, goblin, pirata, finché controlliamo un artefatto, prende più 1-0, e rapidità. A me viene in mente che in, non in standard, ma in, a parte il fatto che è anche in standard, questa entrad è forte, devastante, fa diventare monorosso, un mazzo vero, perché c'è, quando hai, tanti drop a 1 efficienti e forti, monorosso diventa un mazzo vero, perché ci sono anche i botti forti, poi abbiamo Stock the Flames, Lightning Strike, quindi queste sono carte forti. Ma, a me viene in mente in po', perché puoi fare l'atterra artefatto, entra un 2-2, a costo 2, rapido, senza sfighe. Boh, ragazzi, questo mi sembra forte, molto meglio che di Goblin Guy, da volte. Boh, questa secondo me è un po', un po' forte. Cavern of Souls, e poi secondo me anche in Pioneer, Cavern of Souls, questa è sicuramente la carta da recuperare, numero uno di questa espansione, la grotta delle anime, la mettono come mitica, quindi hanno fatto un upgrade rispetto ad Avacin, ed è una terra che ha sempre, 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 è stato super rilevante in formati corti, quindi standard Pioneer, questa proprio cambia il formato, ma perché, perché fa, rende il tribale molto forte contro Control, cosa abbastanza rilevante, secondo me, e poi inoltre, inoltre è una carta estremamente versatile, ed è un ottimo momento, perché lo sapete tutti, per quanto la ristampino questa carta, il valore lo tiene, è un ottimo momento per recuperarla, in caso non l'avessi, non l'aviate. Già, quindi secondo me, anche questo sicuramente è il primo posto, ma chiunque non lo metta al primo posto, c'è qualcosa che non va, perché questa è una ultra staple, da recuperare, forte in ogni formato, ovunque, che tiene sempre un valore alto, questa è sicuramente la carta, da recuperare di questa espansione. Spero che questo video vi sia piaciuto, mettete like, commentate, iscrivetevi al canale, ci vediamo a fare la pre-release, al Playtime Monster, al Playtime Monster.